E' andato via? Benfante? Sì, ok. Facciamo il pezzo iniziale Gabri Den e poi andiamo avanti con voi. Quindi vi prendete due sedie e vi mettete vicini. Grazie. 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 Ok, vi ho disturbato? No, era un momento un po' particolare. Facciamo un pezzettino, il pezzettino iniziale, a meno che tu non voglia lavorare su delle cose specifiche. Il pezzettino iniziale, vi chiedo solo questo, di lavorare in maniera un po' più precisa sul tipo di relazione che c'è fra loro. Quindi sulla vanità di una ragazza molto giovane che ha conquistato un uomo molto più grande di lei. E sulla gratificazione anche per un uomo più grande di avere affascinato una ragazzina. Gratificazione è anche imbarazzo un po', forse. Cioè nel senso, non sei un ragazzino comunque. Questo può darsi, chissà se le piace veramente fino in fondo questa cosa, oppure poi, no? Un po' vorresti essere anche più giovane per lei. Quindi devo essere un po' più ammiccante io? Guarda, non voglio darti delle modalità, pensa però a questa cosa, che lui è un uomo sposato, molto più grande di te e tu sei riuscita a conquistarlo. Ok. E preferisce te alla moglie anche. Ci sono tutte queste... E anche per te è un po' essere all'altezza di quest'uomo così grande. Sì. Ne facciamo solo un pezzettino iniziale di canzone, vediamo se riuscite a cogliere delle cose un po' più precise. Che male fa stringere i denti per una volta Anche se so che del mio amore poco ti importa Vorrei rubarti un po' di amore vero Tutto per me E se tra me e te c'è un mondo intero E che male c'è Tu Per gioco ma sei stata un po' Anche mia E con te Vale la pena di tentarla Un'avventura Che male fa Credermi amica Per una sera Fingere ma Anche così Darti tutto di me Non capire più Tra falso e vero Che spazio c'è Che spazio c'è Tu Un gioco che può essere Pazzia E con te Mi sembra ancora più bella e strana Un'avventura Ok Va bene Grazie Grazie a voi Ci vediamo un attimo